Ciao a tutti! Oggi vediamo questi tagli a unghie. Sono gli ultimi arrivi da Premana, una località della provincia di Lecco, dove chi ci segue sa che sono esperti nella lavorazione dei metalli e in particolare delle lame, quindi forbici e coltelli. Qui vediamo un tagliaunghie di piatto con una forma molto particolare, si apre in questo modo, all'interno ha una limetta ed è un comodo portachiavi con l'anello proprio per tenere le chiavi. Questo è in acciaio inox, quindi non si ossida, non arrugginisce e la lavorazione professionale permette di avere un taglio netto e di lunga durata. vediamo come si chiude, ha una chiusura a molla e come possiamo vedere è uno spessore di 0,5 cm, quindi solo 5 mm di spessore. Come dimensioni è 6 cm di lunghezza e 1,5 cm di larghezza. Ma la particolarità, come dicevo, è proprio quella dello spessore, solo 5 mm. è comodo da tenere in tasca, non dà fastidio e ha anche l'anello per diventare un utile portachiavi. Lo potete trovare sul nostro sito elettronicadedattica.com insieme a tanti altri modelli di tagliaunghie, forbici, coltelli e articoli per ogni vostro hobby creativo. Io vi aspetto per i prossimi video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale per restare sempre informati e visitate il nostro sito elettronicadedattica.com Ciao a tutti, a presto! Ciao a tutti!